buongiorno ragazzi allora come vedete oggi facciamo un altro video e andiamo avanti a parlare dei nodi che vanno bene per qualsiasi tipo di occhiello nell'ultima puntata abbiamo parlato del clinch e oggi andiamo a trattare di un nodo veramente conosciutissimo nel mondo della pesca il palomar il palomar è un nodo che ha delle caratteristiche veramente fenomenali soprattutto in quanto a tenuta pensate che ha circa il 95% di tenuta del filo lineare quindi un nodo che tiene veramente tantissimo e questo è dato proprio dal fatto che proprio sull'occhiello il filo viene doppiato ma questo lo capiremo meglio quando lo andremo ad eseguire quindi seguitemi e andiamo a vedere come realizzare in pochi e semplici passaggi questo nodo eccoci qui amici il surfcast in tv come vedete oggi abbiamo cambiato leggermente prospettiva per consentirvi di capire al meglio come realizzare il nodo in questione senza perdere tempo andiamo dunque a vedere come realizzare il nodo palomar abbiamo un piccolo sagolino di colore giallo che simulerà il nostro filo e un piccolo anellino metallico che simulerà l'occhiello del lamo di una girella o di quello che andremo a legare la prima operazione consiste semplicemente nel doppiare il nostro filo accostando le estremità del filo al filo stesso in questo modo a questo punto il filo doppiato andrà inserito all'interno dell'anellino metallico e con il filo doppiato andremo a realizzare un semplicissimo nodo piano in questo modo quella che è venuta a crearsi è dunque questa piccola asolina la quale andrà fatta sormontare sull'attrezzo che stiamo legando che nel mio caso è appunto l'anellino metallico quindi la passiamo in questo modo a questo punto quello che abbiamo è da una parte le spire del nodo piano che abbiamo creato inizialmente e dall'altra la piccola asolina che abbiamo appena fatto passare a questo punto non ci rimane altro che umidificare il filo con la saliva e andare piano piano a tirare le due estremità per serrare il nostro nodo ecco dunque realizzato il nodo palomar come vedete per osservarne la corretta realizzazione dovremmo avere queste tre spire e il filo doppiato sotto sono proprio queste due spire il doppiamento di filo che consentono al nodo palomar di avere la tenuta elevatissima del ben 95% circa del filo lineare che appunto possiede il baffetto in eccesso potremo andarlo a tagliare a raso perché è un nodo che non scorre e di conseguenza possiamo tagliarlo veramente del tutto senza problemi è un nodo che come vedete è molto piccolo ma molto molto robusto e inoltre ha la peculiarità di far uscire i due fili dalla parte verso dietro questo ci consentirà se lo utilizziamo per andare ad esempio a legare un amo di far passare gli anelli nella fase di innesco senza alcun problema ci sono altri nodi che il baffetto in eccedenza lo fanno passare verso il sopra e quindi ostacolano l'operazione di inserimento del verme in questo caso invece l'anellide potrà essere portato sul filo senza alcun problema bene ragazzi eccoci qui abbiamo visto come realizzare il nodo palomare un nodo fondamentale e sicuramente molto molto utile per le sue caratteristiche veramente elevatissime di tenuta e quindi ve lo consiglio io lo utilizzo molto sia nella realizzazione dei travi sia per scopi vari diciamo che è veramente veramente molto buono come nodo niente un saluto a tutti e alla prossima puntata sempre su sercassi in tv ciao ragazzi ciao ciao ciao